Ma buongiorno Allora Oggi in programma c'è finalmente Un giletto sul bracco raga Sono due settimane che non Cioè non esco con la moto per farmi un giro Tranquillo Andiamo subito sul bracco e dico andiamo Perché vabbè Si che io parlo sempre al plurale Anche quando sono da solo Però andiamo sul bracco io e Gabi Oh Stavo dicendo sono oltre due settimane Che non faccio un giro Sto andando solo a lavoro in moto La cosa mi deprime di brutto Oh no Io non ho visto niente Chi Che passavano Dovrebbero farmi un applausi Queste corvette iniziali Mi sono mancatato un piede Come godo Come godo Meno male che esiste il bracco ragazzi Veramente Sennò la mia vita non avrebbe senso Ma Gabi dove è finito? Forza Gabri Brutta brutta qua brutta bruttissima zio No mi sento abbastanza carico oggi Sono contento Sono contento Eh giorni in cui veramente Mi sembra di essere Imbacchettato Tutto ingessato E giorni in cui mi muovo un po' più con Con un po' più di scioltezza Quanto è facile da guidare Quanto è facile da guidare sta c***o Dmt Mamma mia Uno sguardo vai dove minchia ti pare Guarda 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 Uiuuuu 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 Cazzo cazzo Uiu Uiuuuu Madonna come spigna la mia piccola Quanto è maneggevole mamma mia Quanto è maneggevole questa moto Porca Ogni giorno che passa mi sorprende sempre di più Troppo 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 divertente Troppo divertente Tra tutte le moto che ho provato fino adesso Secondo me Dicone il complesso Divertimento tutto quanto Sensazione feeling Prima impressione Miglior moto per adesso che ho provato Migliore ancora Ancora più della mia E la Street La street fosse ripotenziata Quella moto sarebbe veramente una gran bella belva Peccato che depotenziata Ma per Andrea va bene così Ah ecco dove eri finito Bella Ripartemmo Ripartemmo Capicai Augzie a tutti A presto A presto A presto Tieni in A presto A presto A presto bello 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 sono contentissimo grande mi è piaciuto questo giro in grado a fare un bordello irreale direi che più salda di così non si può bollento fra cretini si ritrovano e camminano tutti danno anche fastidio da vedere prenderne uno per non prenderne 99 neanche la metà della punta dell'unio ok raga è arrivato il momento di fare foto e dietro ci sarà una signorona ma raga mi sento un po in crisi dietro di me c'è un r6 della madonna non vedo proprio attaccato al culo ahhh ahhh Ma lo sai che a un certo punto non ti vedevo più Dico dove c***o è, porco di c***o Oh ragazzuoli, qua la situazione non è bellissima Porca c***o Oh ragazzuoli C***o zio cane Bastardo Ciao L'ho perso, l'ho perso Guarda come li asco di insolata Non è facile stargli dietro eh Oh mio dio Questo episodio sta diventando strano Ma cosa è successo prima scusa? In uscita di curva quando stavi andando ti vedevo sbacchezzare Che c***o ridi? Oddio È sparito È sparito Sta sparendo? Pian piano sparisce È sparita Che palle Lui si sdraia quando c'ha un po' di sonno mentre sta andando si sdraia Non si fa problemi Basta Basta Ragazzi Ragazzi ci vediamo Direi che oggi è stata una giornata parecchio impegnativa Madonna Oddio Sono veramente esausto Rimango sempre lento come la m***a Non ho portato niente di eclatante Niente moto nuove, niente novità Niente contenuti un po' più piccanti Però un giretto in moto fa sempre bene E divertirsi facendo un paio di curve è sempre bello Sapete ragazzi rimanere senza benzina sul bracco Come si fa poi? Facciamo che andiamo in eco perché sennò veramente non ci arrivo a casa Comunque raga il più bel posto per farsi due curve raga Il bracco Il bracco Basta solo un attimo conoscere anche un po' la strada Se è a posto poi per il resto Che bello ste curvette quanto mi piacciono la discesa L'inizio del breath ragazzi vi riassume completamente quel che sarà la strada Curve, 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 curve Però oggi abbiamo andato Una roba come 20 euro di benzina Oggi abbiamo andato tutto Possiamo concludere qua il nostro video Come ne ho anch'io Con tutta la calma del mondo Con tutta la calma del mondo Ci sta a farsi inseguire Da persone che hanno più esperienza Ragazzo con l'R6 che mi stava dietro Mi ha detto Mi ha detto Quando scendo in piega Dovrei Porco Mi ha detto di puntare più lo specchietto E abbassarmi in diagonale verso lo specchietto Piuttosto che Solo lateralmente spostarsi così Capito? Io come al solito vi ringrazio Per esservi guardati anche questo video Ciao 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 Ciao